Dietro ci sono i migliori bartender. Dentro ci sono le nuove ricette a base di San Bittere. Sono i bartender cocktail, pronti da personalizzare in poche e semplici mosse. San Bittere si apre a nuove creazioni. Ed ecco dei cocktail di qualità come quelli del bar a casa. E tu apriti a un nuovo modo di gustarlo e sorprendi tutti. San Bittere. Be open. It's better.